Ci vuole un paese perché non c'è, ma non perché non ci sia mai stato, come tante volte si dice in questo periodo, con una ricostruzione storica un po' approssimativa, perché l'abbiamo perduto. Io ho l'impressione che un paese era stato costruito, era stato costruito da una cultura che poi alla lunga si è rivelata anche lungimirante, era la cultura del ceto politico non solo, quello della Costituzione, ma era una cultura diffusa, una cultura che recuperava molto, che faceva quello che Arbasino chiamava la gita a chiasso, perché bisognava leggere determinati libri e c'era quindi una grande vitalità, c'era la consapevolezza che si stava facendo qualcosa che dava a questo paese che aveva la storia che conosciamo una identità, una forza, una Costituzione, una politica, anche un conflitto e quindi questo paese è stato costruito. Perché l'abbiamo perduto? La regressione culturale. La regressione culturale è impressionante, lo vediamo nelle direzioni più varie, lo vediamo nella politica che non è in grado di rendersi conto, per esempio, che un passaggio rappresentato da una riforma costituzionale è un passaggio per un paese importantissimo, una regressione che ha visto la scomparsa delle identità politiche, identità politiche probabilmente fondate in Italia più che altrove in una congiuntura che era quella di un paese di frontiera, un paese e quando tutti questi elementi vengono meno, in un momento che si congiunge poi con la scoperta di che cosa? Della corruzione in questo paese, la forza che tiene insieme un paese si sbriciola. deve ritornare un po' sulla propria storia, un po' sulla consapevolezza del fatto che poi in questi anni non c'è stato un abbandono della discussione culturale. Un paese ci vuole perché in questi anni non si è perduto il filo della necessità di costruirlo e oggi quello che manca è mettere insieme, io dico, un'utopia concreta. C'è una visione che aiuti l'Italia a tornare a essere un paese.